non volevo parlare di Fabrizio Corona e non fraintendetemi non è il classico non ne volevo parlare ma ne parlo sacrificandomi per voi in modo da avere like no, non volevo proprio parlarne perché il caso Fabrizio Corona è una delle poche cose che mi fa veramente incazzare ci sono tante cose che mi fanno girare ingranaggi ma Corona e il fenomeno che si è venuto a creare intorno a Corona è una cosa che veramente mi manda fuori dal cervello perché siamo tornati a parlare di Corona? perché? ha tirato nuovamente delle mutande dalla finestra? no semplicemente dopo che gli era stato dato l'affidamento ai servizi sociali in modo da uscire dalla prigione dopo due anni e basta di pena gli è stata revocata questa ordinanza perché sembrerebbe che ci siano stati degli illeciti per l'affidamento di beni a cui lui ha partecipato e che quindi avrebbero violato l'ordinanza del tribunale ora mi vorrete scusare perché mi viene un po' in mal di testa quando parlo di Corona perché a me fare il gatto relativamente è un cazzo del fatto che Corona stia in galera o stia a casa proprio giusto pochissimo però con questa nuova novità sono ritornati a bomba i post di sostegno a Fabrizio Corona e che post io ve lo assicuro non pensavo che esistessero delle persone così ritardate ora ne ho la prova la certezza matematica che gli italiani in quanto popolo è composto da un manipolo di handicappati ed è giusto le condizioni in cui ci troviamo adesso perché ho visto un post condiviso da un amico che ho rimosso immediatamente dall'amicizia su Facebook e spero di rimuoverlo quanto prima dai ricordi classico post sai Schettino ha ammazzato 750 persone e non fa niente Corona per due foto fa 10 anni di galera hashtag libero Corona allora cerchiamo di rimanere rimaniamo i calmi perché non vorrei dire cose che poi me ne vedo ci sono due aspetti fondamentali che sono abbastanza erronei in questa esposizione dei fatti il primo è che Corona non è andato in prigione per due foto leggiamo leggiamo condannato per aggressione a pubblico ufficiale estorsione e tentata estorsione estorsione aggravata trattamento illecito di dati personali detenzione spaccio di banconote false detenzione e ricettazione di una pistola violazione di domicilio appropriazione indebita falso corruzione bancarotta ed evasione fiscale ma poi il discorso schettino dovrebbe andare in prigione sicuramente ma che cazzo il discorso è ci sono persone che hanno fatto di peggio il piedo libero e allora liberiamo Corona come cazzo ragionate come cazzo ragionate non è che se c'è un assassino al piede libero allora liberi tutti i ladri non funziona così ci siamo giudiziari chi infrange la legge va in prigione punto non devi liberare Corona perché ci sono assassini a piede libero devi mettere gli assassini in galera la soluzione non è togliere criminali dal carcere è mettercene altri secondo questa logica del cazzo in prigione ci starebbe una singola persona quella che ha fatto peggio tutti gli altri dovrebbero stare fuori non capisco non capisco non capisco veramente non riesco a capire come cazzo ragionate non lo capisco in un periodo allora in Italia siamo tutti ammorbati con la giustizia non è vero che vuole per tutti questi potenti questi politici fanno il bello e il cattivo tempo e noi poveracci veniamo puniti anche se ne dobbiamo una mela e poi uno che commette una sfilza di reati più lunga più lunga dei peni che prendeva in prigione vi osgnate a proteggerlo ho letto pagine ho visto pagine che dicevano sto cercando 368.952 persone che facciano 10 minuti di carcere in modo da togliere la pena a corona perché se la facciamo tutti collettivamente a lui gliela tolgono a parte che non funziona proprio così non credo che funzioni proprio così ma siete seri? siete seri? non ho veramente parole grazie a tutti Grazie per la visione!